Salve a tutti ragazzi, in questo nuovo video vedremo come arrivare e come raggiungere tutte le nostre abilità a livello 100 Con questo libro, facilmente ottenibile con la quest di Septimus Questo qua, questo libro qua Però mi raccomando, non utilizzate questo trucchetto, questo modo per fare subito tutte le abilità al 100 Perché altrimenti non vi godete il gioco, fatelo proprio alla fine Io ora lo sto facendo così, mi aiuta a velocizzare i video guida Tanto poi ricomincerò la campagna e quindi rifarò tutto da capo Allora, come avete visto, dovete avere per prima cosa una casa a Whiterun La comprate, andate alla libreria Qui dobbiamo fare un procedimento molto semplice Però se sbagliate perdete il libro, quindi vi consiglio di salvare Allora, voi cliccate come avete visto sopra la libreria E leggete il libro dall'inventario con R1 E scegliete l'abilità che volete aumentare Una volta aumentato tutto, postate il libro e lasciatelo premendo quadrato E quindi va nella libreria Mi raccomando, seguite i passaggi, non te li faremo vedere più di una volta Poi cliccate X, non lo leggete mo dalla libreria, ma lo prendete Ok? Poi rifacciamo la stessa cosa, attiva scaffale Lo leggiamo dal nostro inventario con R1 Eccolo qui, R1 Lo leggiamo, scegliamo l'abilità che vogliamo Sia il guerriero o del ninja O della fortività, scusate, o del mago E poi lo riposiamo con quadrato Se sbagliate vi si leva il libro Quindi salvate prima come ho detto prima Poi lo prendete dallo scaffale E dovete fare, non dovete scegliere queste tre opzioni Dovete fare non leggere Fate e X prendi E lo riprendete Poi la stessa cosa Di nuovo sopra attiva scaffale Andate su libri Dove vabbè, tenete il libro E cliccate sul libro con R1 Mi raccomando, leggetelo dal vostro inventario Scegliete le abilità da aumentare E poi quadrato per riposarlo Mi raccomando, altrimenti scompare E fate sempre la stessa cosa Riprendete il libro E lo potete fare un sacco di volte Finché non arrivate al livello 81 Perché così al livello 81 Avrete tutte le abilità al 100 Però mi raccomando Quando poi andate a distribuire punti bonus Andate a distribuire bene Perché pure se avete tutte le abilità al 100 Non avete abbastanza punti Per fare tutto quanto Quindi distribuiteli bene Vabbè, questa è casa mia E ci si vede in un prossimo video Forse si ricomincerà a giocare di nuovo Tutto da capo sul pc però Ok? Salve a tutti ragazzi Ma che salve a tutti Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie.